Stop alla Serie B. Non è una notizia certa, ma un rischio concreto. Ad annunciarlo è direttamente il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Franco Frattini. L'ex ministro degli esteri, nell'analizzare la sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dalle ripescabili Ternane e Provercelli rimandata al prossimo 9 ottobre, sottolinea l'importanza del collegio da lui presieduto del prossimo 21 settembre, quando verrà riesaminata la questione format, in una composizione completamente nuova. In sostanza, bisognerà decidere se la Serie B dovrà essere ripristinata a 22 squadre o tenerla a 19 formazioni e bisognerà farlo in fretta. La tappa di venerdì è fondamentale, secondo Frattini, per scongiurare uno stand-by totale in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo. Venerdì dunque una nuova puntata di una telenovela che ha messo a nudo tutti i problemi del calcio italiano, proprio nel giorno in cui è fissato il derby tra Benevento e Salernitana, che dovrebbe aprire la quarta giornata del campionato di B. Il condizionale però è d'obbligo, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega. Alessio Buompasso per la Cineus 24.